Simone Albace è il vincitore della quinta puntata della seconda stagione di VLPU per Contest, complimenti! Grazie! Cosa ha conquistato il pubblico secondo te? Penso l'impatto dei brani, già importanti, probabilmente, molto emotivi anche come testi, come... È vero, quello sicuramente perché ha scelto niente di meno che Vivo per lei e Cambiare di Alex Baroni, per cui già questo sicuramente ha conquistato il pubblico ma poi posso dirtelo io, la tua voce! Io conosco questo ragazzo da credo vent'anni o qualcosa del genere, hai fatto un miglioramento pazzesco! Grazie! È davvero strepitoso il controllo, il timbro, la tonalità che riesce a raggiungere, complimenti! Grazie! Come ti preparerai per la semifinale? Non lo so, ci devo pensare a trovare dei pezzi giusti, anche un outfit decente, non così magari e vediamo! Va bene, va bene! In inglese magari! Potrebbe essere! Smith, qualcosa di più m'articolato! A chi dedichiamo questa vittoria? Pierpaolo che mi segue, poverino, non ne può più! E ai miei che sono già andati via, che sono venuti per una volta insieme a sentirmi, per una volta! Oh, vedi, Bulli e Puppe, Bulli e Puppe che cosa fa? Il potere di Bulli e Puppe! Bene, allora Simone complimenti, grazie mille, a presto! Ci vediamo alla prossima! Ciao!